Da questa mattina, come già preannunciato da alcuni mesi, la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito e il circolo degli anziani, diventa effettiva ed ufficiale. Questa mattina, infatti, il primo cittadino ha incontrato e salutato i nonni vigili che da oggi sono in servizio per seguire i bambini e assicurare loro la sicurezza nelle entrate e nell'uscita dalla scuola. Parte così ufficialmente il progetto con cui l'amministrazione comunale sansese intende valorizzare il capitale umano presente sul territorio, partendo proprio dalla collaborazione instaurata con il circolo degli anziani di Sanza. La figura del nonno vigile avrà il compito di supportare il servizio di tutela del territorio per la sicurezza dei cittadini in cui sono impegnati gli agenti della Polizia Municipale. Si parte con la presenza del nonno vigile in piazza 24 maggio a Sanza, nei pressi delle scuole. Ad aver ricevuto il compito il nonno Pietro, che dopo un'attenta selezione e a seguito anche di un'adeguata formazione, questa mattina ha indossato la pettorina ed è entrato ufficialmente in servizio come nonno vigile in piazza San Francesco per garantire l'ingresso nelle scuole dei bambini in tutta sicurezza, così come anche all'uscita della scuola, controllando anche il traffico. L'attività dei nonni vigili sarà prevalentemente rivolta a verificare il rispetto delle regole e la sicurezza dei bambini. Svolgeranno il loro compito prevalentemente presso il presso scolastico di via Valdagri, nell'asilo comunale di via Santa Brigida e all'uscita della scuola media di piazza 24 maggio, garantendo sicurezza, vigilanza e supporto ai più piccoli. Il sindaco Vittorio Esposito questa mattina ha incontrato il nonno vigile in servizio per augurargli buon lavoro e congratularsi per il suo impegno a servizio della comunità. Auguro buon lavoro al signor Pietro, dichiara il primo cittadino, e desidero ringraziarlo per la sensibilità e per il senso civico dimostrato, avendo aderito al nostro progetto. Una bella iniziativa portata avanti dal consigliere Marotta che oggi si concretizza. Un nuovo importante tassello, conclude Esposito, nel processo di coinvolgimento e crescita sociale della comunità.